Papà, addio, cosa faceva prima di creare il mondo? Grazie a tutti Andare Maina a curare i parenti ammalati di tifo? Io ci vado, papà La tua casa è ancora questa, ricordatelo Dovrai allontanarti per un po' di tempo Almeno finché non si calmeranno le acque Vi ho riportato Maina Tra un mese Don Bosco verrà a Mornese con i suoi ragazzi Non basta Cos'è questo che vedo? Dovete decidere se volete essere suori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti